Una delle peggiori versioni della stagione in quella che doveva e poteva essere l'occasione per fare il salto di qualità dopo la vittoria rimonta al Monterisi sul Crotone. La capolista Juve Stabia non fa sconti anche al Cerignola. Perde e male l'undicio Fantino, finisce 4-0 e con due gol per tempo al Romeo Menti per le Vespe Campane. Pugliesi troppo brutti per essere quelli veri. Ivan Tisci propone Trezza tra i pari al posto dell'infortunato Krapikas. Panchina per l'ultimo arrivato Barrosi, tridente offensivo scontato, D'Andrea e Leonetti a sostegno di Malcore. Capomaggio, centrale di difesa bianco nei tre centrocampo con Ruggero e Tascone. La Juve Stabia prova a fare la capolista. Sin dalle prime battute, primo quarto d'ora tattico, poi parte il balzer delle occasioni. Bachini, su azione d'angolo, non inquadra lo specchio di testa. Trezza sbaglia completamente il tempo dell'uscita. Piscopo lo grazia così. La Juve Stabia però passa prima della mezz'ora. Lo stesso Piscopo, crossa, adorante, trova il colpo di testa vincente che spacca in due la partita. Campani avanti, campani che non si accontentano, campani che raddoppiano prima dell'intervallo. Contatto, Romeo Capomaggio in piena aria e calcio di rigore dagli 11 metri. È impeccabile la trasformazione di Candellone. 2-0 all'intervallo. Ripresa con due novità per gli ospiti. Dentro Sainz, Mazza e l'esordiente Lombardi. Fuori Bianco e Leonetti, numero un'apertura di Adorante, sarebbe stato un gol da Cineteca. La reazione del Cerignola? Nulla fatta, eccezione per questa conclusione di Sainz, Mazza che fa solo il sollettico a Tiamo. La Juve Stabia non vuole correre rischi e prova a chiuderla. Il colpo del K.O. Arriva ad un quarto d'ora dal termine. Adorante, servito da Leone, vince il duello sia con Vicentin che con Trezza. 3-0 che diventa poi 4-0 nel finale. C'è Gloria, pure per il nuovo entrato Piovanello che completa il poker, sfruttando la giornata da dimenticare in fase difensiva degli Ofantini. Parentesi, da dimenticare nel complesso per il Cerignola che resta inchiodato a quota 35 punti in classifica. Domenica, 11 febbraio, al Monterisi c'è il derby contro il Taranto di fronte. Le migliori due pugliesi dell'aggruppamento. Le migliori due pugliesi dell'aggruppamento.